e ciao ciao da svideo allora facciamo un videozzo qua su stumble guys facciamo con l'acid pool vabbè dai proviamo questo torneo dell'acid pool proviamo giusto da provare bim 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 con la mappa acid pool che è una delle più nuove vediamo un po infatti si chiama torneo tossico torneo oserei dire un torneo un po acido cosa torneo acido anche io a volte sono un pochino acido allora quanti siamo siamo tanti mamma mia e giù e giù oia oia sono già morto niente niente ragazzi è andata molto male è andata molto male è andata molto male 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 scordi le cilici di pacman allora facciamo torneo pacman siamo torneo pacman dell'ordine poi chi c'è io faccio torneo ma non so scarce non ha nel senso che faccio torneo sono scarsetto vabbè vediamo un po andiamo a prendere un po di queste caramelle rotonde poi si una mappa di raccolta si diciamo si preferisco un po come 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 a tanti preferisco le le mappe eliminazione però però questa diciamo è fatta molto bene molto carina poi riflette molto lo spirito di pacman proprio molto molto pacmanosa dai quindi ci sta beh un po di pacman bisogna proprio il fantasmino mi ha mangiato e vabbè allora andiamo dove dove sono delle altre alle info e vabbè ma qua fra un po finisce la ma aiuto la 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 no ma che che salto fatto male che ho fatta ho saltato malissimo allora qua ciao aiuto dunque c'è fantasma fantasma eccolo la mi ha già preso le vabbè ecco adesso sono ritornate no non mangiate me le tutte ma non riesco a saltar bene oh sono diventato un pacman beh dai questo round sono andato benino dai dammela 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 nooo eeeh c'è fantasma proprio lì cioè l'ho presa nooo eeeh beh mi son qualificato mi son qualificato mi son qualificato perfetto perfettissimo mi son qualificato perfetto perfettissimo mi son qualificato Perfetto e perfettissimo Mi sono qualificato Perfetto e perfettissimo Ti sei qualificato Bravo Bravo Aggie Allora The other side Mamma mia Proprio questa di mappe Entro Dentro Ecco Subito Abbiamo sbagliato Mamma mia Questa mappa ragazzi Non è facile Cioè Per me Poi dopo altri diranno Invece è semplice Per me invece È un po' difficoltosa Mettiamoci qua va Per me Per me Per me Per me Per me Per me no ce l'ho con questo aiuto no uffa eeeh qua no ragazzi ok si e c'è cucinelle anche mi metto tutto da un lato stanno passando tutte così no qualificato si perfetto perfettissimo mi so qualificato perfetto perfettissimo mi so qualificato perfetto perfettissimo sei qualificato bravo il video grazie rabbit grazie rabbit allora mettiamo un po' concentrazione non andiamo subito avanti aspettiamo un po' io aspetto un po' che litigano tra di loro aspettiamo un po' qua nelle retrovie magari litigano tra di loro che qualcuno va via magari giochiamo un po' in difesa ragazzi c'è quello là che mi aspetta al varco no 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 sono ancora vivo vado di qua quel cobe fan c'è la poltrona che sta scendendo voi non vedete ma c'è la poltrona no ma chi uffa no è andata male vabbè dai guardiamo chi vince tra ragazzo re gilmaro 3 cobe fan cobe fan ma perché all'inizio ho provato a dare un pugno a questo qua quindi se l'è preso dai eh 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 ha vinto cobe fan ha vinto proprio cobe fan eh vabbè gg per te allora detto questo andiamo a vedere perché abbiamo riscattato qualche cosina eh sì abbiamo riscattato riscosso scusate allora intanto mettiamo qua ecco beh c'abbiamo anche il coso lì ciliegie ma abbiamo però un doppione ma ce l'avevo già ragazzi cioè è un peccato perché avrei vinto questa skin qua ma ce l'ho già e vabbè e convertiamo ragazzi e c'è qualcosa qua del pass ah beh possiamo riscuotere le gemme facciamo facciamo intanto salutiamo Giorgio che vedo che mi stava invitando e no volevo vedere con le ciliegie abbiamo 640 ciliegie ragazzi quindi direi che ci facciamo un bel ecco iniziamo con un bel 500 ooooh blinky ooooh blinky ooooh ooooh pacman arcade ooooh 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 pacman arcade ancora ooooh 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 pac fan eh ma ce l'avevo già questo ce l'avevo già ooooh 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 parfan ah no parfan fatto in quello con quel capelli lì non mi manca quell'altra skin lì blinky lo finisco ah no c'è ancora un po' per blinky ooooh 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 pacman arcade e vabbè pac fan ce l'avevamo già blink e 53 e pac fan molto avanti però noi ne abbiamo ancora 140 e vabbè altri due giri possiamo fare ooooh 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 dai non completiamo niente l'altra pac fan dai l'altra pac fan quella con i capelli più lunghi o blinky 58 su 70 ah cavolo eh vabbè dai dunque poi abbiamo no è così viola c'è non solo la ruota di pacman qua c'è fatto che sono 40 ciliegie niente direi che possiamo chiudere qua il video va bene dai allora ragazzi grazie a tutti quelli che hanno visto questo video e ciao ciao a tutti alla prossima ciao da svideo mettete like condividete commentate insomma fatemi sapere che ci siete ciao ragazzi ciao ciao un saluto da tutti